Dal 2021 sono uscite tutta una serie di nuove novità per quello che riguarda il contenimento e la prevenzione del peggioramento miopico. Oggi vi voglio parlare di Myosmart o di Stellest della Essilor. Sono due tipi di aziende che fanno due tipi di lente sostanzialmente identiche che tendono a prevenire il peggioramento di miopia nei giovani soggetti. Tendenzialmente si parla di ragazzini che vanno da 6 a 18 anni. L'utilità di questa lente è quella non di fermare, magari se riuscisse, ma sostanzialmente di contenere il peggioramento miopico nell'ambito della crescita e nello sviluppo del bambino. Questa è una lente innovativa che è uscita, come dicevamo, a inizi del 2021, dando degli ottimi risultati perché gli studi fatti in Asia nei cinque anni precedenti hanno dimostrato un rallentamento della miopia tra il 60 e il 67%. In questo 2021 tutte le lenti vendute ad oggi hanno dato degli ottimi risultati. È ovvio che io nel mio piccolo posso fare poca statistica, ma sostanzialmente a livello nazionale i dati ci confortano. Cosa importante ovviamente sono i controlli periodici, perché i bambini una volta iniziato il percorso, essendo un vero e proprio trattamento del contenimento miopico, bisogna sottoporli a controlli periodici che tendenzialmente sono fatti una volta ogni sei mesi. Tra il controllo della vista, il controllo della lunghezza assiale, tutta una serie di valutazioni che fanno sì di poter tenere sotto controllo gli eventuali peggioramenti nel giovane miope. Cosa può fare un genitore per cercare di aiutare anche il proprio figlio? Quali accorgimenti può avere? Come genitori possiamo cercare di far usare il meno possibile tutti quelli che sono i dispositivi come cellulari, tablet e computer, perché il prolungato uso della vista a distanza ravvicinata accelera ed aumenta il peggioramento miopico. Laddove possibile almeno due ore al giorno di luce naturale, quindi stare all'aperto e non stare sempre chiusi in casa. Ovviamente nel periodo invernale è un pochino più difficile, nel periodo estivo sicuramente più semplice. Quindi tra 10-20 anni non ci saranno più persone se utilizzano questo accorgimento che gli mancheranno 6-7 gradi? Allora, le previsioni parlano del 55% della popolazione in Europa nei prossimi 50 anni che sarà miope. Parliamo di popolazione giovanile ovviamente. L'utilità di questa lente non è semplicemente rallentare il peggioramento della miopia. Noi dobbiamo considerare che una elevata miopia può portare poi a patologie oculari, ma l'obiettivo è quello di ridurre le miopie per ridurre tutte quelle che sono poi le condizioni patologiche associate alla miopia, perché una miopia elevata può portare comunque a problemi di retinopatia e di maculopatia, perché più l'occhio cresce più la retina si assottiglia. Possiamo dire sicuramente che se si comincia un trattamento in età precoce possiamo rallentare i peggioramenti miopici e di conseguenza ridurre assolutamente la miopia nei giovani. Quindi sì, fra 20 anni anziché avere miopie di 5, 6, 7 diotrie, possiamo avere miopie di 3, 4 diotrie, perché questa non è una lente che deve bloccare la miopia, ma deve comunque ridurne la crescita.